Clarissa e Federico di Uomini e donne a Emigratis con Pio e Amedeo Uomini e donne, Clarissa e Federico Amiami, protagonisti di una puntata di Emigratis con Pio e Amedeo. Ci saranno anche Clarissa e Federico di Uomini e donne nella prossima stagione di Emigratis con Pio e Amedeo. La coppia vive da qualche mese a Miami, dove è stata raggiunta dal duo pugliese. I quattro hanno trascorso qualche ora insieme e finito la serata in una discoteca del posto. Il tutto è stato documentato sui social dell'ex tronista e dell'ex corteggiatrice, che hanno invitato i loro follower a seguire la puntata della quale saranno protagonisti. Quando andrà in onda? Per il momento non cè una data precisa, la nuova stagione del format è fissata alla prossima primavera. In queste settimane la coppia di comici è in giro per il mondo alla ricerca degli italiani famosi che vivono all'estero. Prima di andare a trovare Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Pio e Amedeo si sono recati a Los Angeles, dove Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto di far nascere il primo genito Leone. Uomini e donne, la nuova vita di Clarissa e Federico in America. Ma perché Clarissa e Federico vivono a Miami? Perché hanno lasciato l'Italia? Gregucci ha iniziato a lavorare nell'Accademia della Juventus, scuola di calce del famoso club. L'ex corteggiatore di uomini e donne è diventato allenatore degli Under-11 e la fidanzata ha deciso di seguirlo dall'altra parte dell'oceano. Negli status, l'ex Miss Italia si mantiene con l'attività di web-influencer. «Ho un lavoro che mi piace, guadagno benissimo» ha assicurato la siciliana qualche tempo fa in un'intervista concessa alla Repubblica. . .